Sto andando con Scout da un informatore di nome Locke. Ha dei dati da vendere che riguardano la prossima fase del programma Ordine Nuovo. Quella roba uccide, sai? Calma, amico, calma. Siamo qui per affari. Sono Capitan Power, questo è il Sergente Becker. Di solito gli amici non si mettono a spiarmi. Baby o Dread arrivano senza farsi annunciare, come scoprirai da te se continui a perdere tempo. Hai stile, sei un tipo concreto. Arriviamo al sodo. Dimmi cosa ne pensi. Il programma Ordine Nuovo, sì, aggiornato. Io tratto soltanto merce di prima qualità. E ora, parliamo un po' di soldi. Mi odredi in arrivo da destra. Restate fermi dove siete! Non opponete resistenza! Sia stramaledetto. Power on! Zorom a Lord Dread! Ti ascolto. Il trafugatore dei dati tenta di fuggire. C'è Power qui! Attendo istruzioni! Trasmetti posizione del fuggitivo a Blaster. Tu invece insegui e distruggi Power. Capitano, dov'è Locke? Prendi lo sky bike e raggiungilo. Io penso a Soharon. Prendi lo sky ikh galloni. Un ccuto! Prendi lo sky... Sia stram ESC PLAT! LAC jewel è questa compissa? sa sfumora pescola e pellice! Ora, come me, organismo! Presto, salta su Vieni fuori e combatti Eccomi, pezzo di latta Fastidia ai circuiti, rottame Sei soltanto una schiappa Gwai Lasta L'amico qui scotta evidentemente Allora prima che ce lo rubino, portalo dì Ehi guerriero, non ci siamo ancora accordati se non sbaglio Questa me la pagherai, Capitan Power Me la pagherai molto cara Inserci bene, è meglio filarsi Secondo i dati, il progetto Icaro Terza fase del programma ordine nuovo di DREAD È già operativo Una piattaforma spaziale orbitante Munita di un distruttore a lungo raggio È ora posizionata contro la Terra Scopo? Distruzione in massa della popolazione umana Primo obiettivo Le coste orientali degli Stati Uniti Inizio dell'operazione Ore 15 di oggi Cioè fra meno di due ore Ci è sfuggito il lancio di quella piattaforma DREAD a base in tutto il globo Di alcune non sappiamo nulla La piattaforma sarà stata lanciata da una di queste Il problema è metterla fuori uso Permette, Capitano Ho ulteriori dati sul programma ordine nuovo Parla pure, Mentor La fase 4, chiamata Progetto Prometeo Comincerà non appena la piattaforma Avrà raggiunto la posizione di fuoco Qual è il suo scopo? L'esplosione di stazioni di energia al plasma Attraverso segnale telecomandato Una tempesta di plasma Si abbatterà su tutta la costa Mio Dio, così brucerà tutto Ordine nuovo Il mondo perfetto di DREAD Sorgerà sulle ceneri dell'antico Possiamo impedirlo? Non lo so Ma dobbiamo tentare Scout, al trasmettitore Avverti Freedom 2 e tutta la costa orientale Bene Pilota, tieni pronta la nave Tank e Oak, caricate a bordo le armi pesanti Io studierò i dati di Icaro e Prometeo per fare un piano Non abbiamo tempo, muovetevi Bene, Capitano Piantaforma Icaro in arrivo sull'obiettivo Sistemi di controllo attivati Non appena avviene il contatto informami Sentinelle e unità di trincea in allarme ultravioletto Super Ego Calcola il tempo di risoluzione del progetto Icaro Tempo di risoluzione 50.7 minuti Un programma procede bene L'ordine nuovo è cominciato E niente potrà ostacolarlo Allora il fallimento dei signori della guerra Nell'impedire che il ladro vendesse i dati a Pawe Non ti preoccupa, mio signore Tu sopravvaluti il nostro Capitano, l'Akhe Dopotutto egli è soltanto un essere umano Certo, Lord Rell Sebbene l'organismo Pawe Sia riuscito a interferire nelle prime fasi del tuo piano Ma non riuscirà a interferire nelle ultime due Se osasse farlo la mia vittoria sarà tanto più dolce Perché verrà annientato Vattene ora! Non ho bisogno di te Dunque, i nostri obiettivi sono due La base che controlla Icaro Per penetrarvi dovremo volare in questa stretta trincea E abbattere le porte con un missile al protone Pilota, questo è compito tuo Sarà uno scherzo Una volta dentro avremo 5 minuti per distruggere la piattaforma E procedere così verso il secondo obiettivo Volcania Il capannone di Lord Rell Ecco la parte che preferisco Sta scherzando, capitano Ok, ha ragione Io conosco bene quel posto Sarebbe un vero suicidio Non se distruggiamo il primo obiettivo E se dovessimo fallire Probabilmente moriremmo comunque Avremo qualche aiuto? Un appoggio esterno? No Noi siamo l'unico gruppo che può raggiungere i due obiettivi in tempo Non c'è altro da fare Che stiamo aspettando allora? Avviamoci arditamente dove nessun uomo è mai giunto prima Tiratemi su Enterprise Non vedo forme di vita intelligente Sto ad uomo Simulazione terminata Astronave distrutta in 10.5 secondi Qualche secondo l'ho guadagnata Bene, riproviamo Signori È ora di andare Comincia la festa Contatto fra base di controllo Icaro e piattaforma spaziale avvenuto in questo istante Tra 10 minuti verrà raggiunta la posizione di fuoco Bene, approntate il distruttore Posto di sentinella I-15 a Lord Red Ti ascolto Abbiamo avvistato astronave da guerra in bulo verso base di controllo Icaro Ci ha sorpassati prima che potessimo aprire il fuoco Power Soharon Ai tuoi ordini Dio signore Power si dirige sulla base di controllo Icaro Intercettalo E distruggilo Far affatto Volo tranquillo finora Siamo fortunati Pio 3 di navide Volo tranquillo, eh State pronti È soro L'abbiamo alle spalle Arbo, in retro la razzica Non perdiamo tempo Sì, vado Buon��mo alle spalle Bambini E dedo Bambini Puoi lerin Avvisamente Ti è piaciuta, becco di latta? So, Aaron, sei un idiota. Hai lasciato passare la nave di Power. Distruttore affrontato. Fra cinque minuti verrà raggiunta la posizione di fuoco. Tutte le unità di trincea si preparino al combattimento. Power non deve penetrare nella nostra base. Come andavi nella simulazione? Ho sempre fatto il massimo. Ricorda, hai un solo colpo. Non lo sprecare. Ti copriremo il più possibile. Ok. Buona fortuna. E voi due che aspettate? Su, agli sky bike. A presto. Pronti? Power on. Acceleriamo. Gia-Inco. Li ragazzarsi. Plane, il sci, funcitaria. Diiersa. Croissare. Liberata, la giù. Qui specifiche. Capoe. Ort deve.. Mergo Ungu e paura. Capoe, grazie. Gay Hundu. 43 images, che finis strangestino. o? Grazie a tutti. Questa sì che è una festa. Scudi anteriori distrutti, scudi posteriori danneggiati. Ancora uno sforzo. Ancora qualche secondo. Forza! Così! Ce l'ho fatta! Così! Così! Avrò partita vita! Manca soltanto il colpo finale! No, quello è mio! Hawk, chiama Jump Ship. Siete in ascolto? Qui, Jump Ship. Hawk, tutto bene? Un po' ammaccato, ma il cielo è libero. E il capitano? È dentro con tank e scout. Ci vediamo al punto stabilito. Parto subito. Chiudo. Attenzione! Energia in esaurimento. Ricaricare immediatamente. Splendido! Teniamocelo per noi, ti spiace? Il luogo è un po' triste per una festa. Io drede, capitano. Sono in molti e stanno aspettando noi. Bene, siamo nella direzione giusta. Tank, perché non ci annunci? Il luogo è un po' ammaccato. Tutto bene. Te lo dirò alla fine. Capritemi. Sembra l'ultimo dell'anno. Base di controllo in vasa. Forze di difesa dell'area delta annientate. Situazione piattaforma Icaro? In preallarme. Aprirà il fuoco fra 30 secondi. Inizio conto alla rovescia. 29, 28, 27... Arrivi troppo tardi, capitano. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15... Scout, alla console. Allora, balliamo? 3, 4, 3, 2, 1... Inizio procedura a fuoco attivata. Codice individuato. Ecco, si gira. In posizione. Bruciala. Allarme. Volcania in pericolo, Lord Red. Che stai dicendo? La traiettoria della piattaforma Icaro prevede l'impatto con Volcania tra 20.6 minuti. Attendo ordini, mio signore. Dai inizio al progetto Prometeo immediatamente. Il programma ordine nuovo deve realizzarsi. E se Power tenterà di fermarlo, troverà la morte. We Power, missione 1 compiuta. È tornato Oak. Eccomi, capitano. Congratulazioni. Dobbiamo ancora conquistare Volcania. Ci vediamo presto, ragazzi. Chiudo.